Sono abbastanza sicuro che non avrete mai sentito parlare di Geekom, ma questa azienda è riuscita veramente in un'impresa, cioè quella di impacchettare l'hardware di un Mac da 3000€ in un prodotto così compatto, a tutti gli effetti un mini PC, che costa soltanto 750€. Incredibile, ma è tutto vero e ve ne parlo all'interno del video di oggi. Io lo so che non ci state credendo, ma questo Geekom Mini IT13 è veramente un prodotto geniale, perché intanto lo vedete è davvero super compatto, molto più di un Mac Mini, ma al tempo stesso all'interno lui condivide lo stesso hardware di un Mac Mini e neanche del modello base, ma appunto di una versione già configurata con il doppio della memoria e con più RAM. Lui come vi dicevo intanto è un mini PC, quindi rispetto al Mac Mini, che può essere sì portato in giro, ma non è il prodotto più pratico da mettere in valigia, questo invece lo vedete è veramente tanto tanto compatto, ma non rinuncia davvero a nulla a partire dalle porte. Pensate un po', intanto troviamo un lettore SD, la bellezza di 4 porte USB A, 3 porte USB C 3.2, una USB 2.0, un ingresso jack, una porta Ethernet e due HDMI per collegare questo minuscolo PC ad un monitor anche fino a 8K oppure a 4 monitor diversi. E se lo collegate a un monitor, la cosa più logica che potete fare è fissarlo tramite l'attacco VESA, incluso in confezione dietro il monitor stesso, perché a quel punto il PC scomparirà, avrete soltanto il monitor sulla scrivania. Il PC come un ragnetto sarà attaccato dietro il monitor e comunque lascerà tutte le porte accessibili per fare tutto ciò che volete. Porte che tra l'altro utilizzerete generalmente per delle periferiche, perché lui ovviamente ha anche il Wi-Fi, tra l'altro iper-evoluto, Wi-Fi C è lo stesso che è arrivato l'altro ieri su iPhone 15. Anzi, nemmeno sui 15, sui 15 non c'è, solo sui 15 Pro e 15 Pro Max, ma soprattutto abbiamo il Bluetooth 5.2, quindi veramente iper-aggiornato, che ci permette di collegare delle periferiche esterne come mouse e tastiera, lasciando tutto libero dal punto di vista dei cavi sulla scrivania. L'estetica forse non è tra le più originali, ma secondo me funziona. Questo è un case in alluminio che offre una buona resistenza, ma soprattutto aiuta a dissipare bene il calore. Anche se qua dentro c'è comunque una ventola che il brand dice essere silenziosa, non direi del tutto silenziosa, però non è tra le ventole più rumorose che abbia sentito su un PC. E poi c'è sempre un i9 nella mia configurazione, che è notorio, non sia il processore che scalda di meno. Lo potete però configurare anche con un i5, se volete risparmiare qualcosa, o magari una giusta via di mezzo potrebbe essere la configurazione i7, tutti i processori di tredicesima generazione di Intel. La bilancia segnala 652 grammi, è veramente leggerissimo, e le dimensioni sono di 117 mm x 112 mm x 49,2 mm. Davvero difficile far meglio in termini di compattezza mantenendo questo hardware. Hardware di cui vi ho parlato solo in parte, perché vi ho menzionato che io ho la versione i9, che c'è i5 e c'è i7, ma comunque il prodotto lavora benissimo. Per i taschi quotidiani è più che sufficiente per un utilizzo base del PC. Io ho anche provato a fare l'utilizzo più vicino a me di un prodotto come questo, cioè nel montaggio video, con video in 4K a 30 o a 60 fps, lui si è comportato benissimo, praticamente come il mio MacBook Pro con chip i9, anzi lui scaldando comunque meno in certi frangenti è stato anche più veloce, più rapido. Il Geekon Mini IT13 include anche 2TB di SSD di fabbrica, non dovete configurarli separatamente, pensate il Mac Mini attuale esce con 1TB di SSD e la bellezza di 32GB di RAM DDR4. Veramente una configurazione che appunto Apple vi fa pagare 3000€ sul Mac Mini. E la scheda grafica nella mia configurazione è una Intel Iris Xe. La domanda che forse vi state facendo su questo Geekon Mini PC è probabilmente come lo inserisco all'interno del mio workflow, della mia quotidianità. Beh, ovviamente intanto dovete avere il piacere di utilizzare Windows e devo dire che io non utilizzandolo da anni ho scoperto che le ultime versioni di Windows, in particolare qui c'è la 11 Pro preinstallata, inclusa con l'acquisto del prodotto, è migliorata tantissimo, è diventato molto più fluido, più stabile, anche a livello grafico. C'è stato un miglioramento. Quindi intanto mi hanno sorpreso i tanti passi in avanti fatti dalla piattaforma Windows, anche legata appunto allo store che viene gestito benissimo. E poi soprattutto mi ha sorpreso anche come va questo prodotto, perché va veramente bene nel quotidiano. Quindi lo consiglierei intanto come macchina da casa, per metterla a disposizione magari di più di un familiare, non come unico prodotto personal, ma come macchina tutto fare per ogni tipo di esigenza. Che sia un veloce montaggio dei video delle vacanze, oppure magari per la compilazione di documenti Word, Excel, per la gestione dei PDF, o magari anche per situazioni totalmente diverse da queste. Come dispositivo per la multimedialità lui è perfetto. Lo potete attaccare anche a un televisore e caricare i vostri file multimediali da rivedere poi sul grande schermo. Quindi ci sono veramente tanti scenari di utilizzo, ma ve ne voglio consigliare un altro. Ve l'ho già detto, forse lo avrete intuito. Per quanto è compatto questo prodotto, se dovete stare fuori una settimana per lavoro e avete la camera di hotel con un bel monitor da 40 pollici, Beh, se magari durante la giornata starete sempre in giro, portarsi il laptop non è la scelta migliore. Vi infilate lui in valigia con il cavo HDMI e l'alimentatore e avete risolto. Quando siete in hotel avete la vostra postazione desktop fissa con tutte le cose che vi volete portare dietro, pronta per continuare il vostro lavoro anche durante la trasferta. E io penso proprio che lo utilizzerò in questo modo alla prima occasione utile, perché mi attira veramente tanto l'idea di avere un prodotto poi con tutte le porte che mi servono, così compatto e soprattutto con questo hardware di livello che se lo cercate in un Mac Mini vi costa 3.000€. E invece ve l'ho già detto, il Mini IT13 di Geekom ha un prezzo decisamente, decisamente più vantaggioso. Si parte dalla versione 5 di tredicesima generazione con 16GB di RAM e 512GB di SSD che viene venduta a soli 549€. Si passa poi a 689€ per la versione 7 con 32GB di RAM e 1TB di SSD. E secondo me questo forse è il compromesso migliore, ma se volete la versione top di gamma con il 9, 32GB di RAM e 2TB di SSD vi serviranno soli, e sottolineo soli, 789€. Valutate voi qual è il risparmio rispetto a un Mac Mini da 3.000€ con cui sostanzialmente al netto di utilizzare Windows e non Mac OS ci fate le stesse cose. Ma per questo video ragazzi direi che è tutto, vi lascio il link al Geekom Mini PC IT13 nella descrizione di questo video, fate un salto sul sito, scegliete qual è il modello che fa per voi e provate questo prodotto, poi magari tornate qui e fatemi sapere come vi trovate. Io per ora non ho veramente riscontrato gravi difetti, soprattutto a questo prezzo. Non si può, secondo me, davvero chiedere nulla di più. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento e noi ci rivediamo molto molto presto in un prossimo video. Ciao!